Vellutata di zucca profumata Ma prima di cominciare volevo dirvi soltanto due parole Scusatemi per l'assenza di questi mesi, ma ho avuto una bella opportunità e quindi mi sono trasferita Ovviamente questo mi ha portato a perdere un po' di tempo, quindi scusatemi per il ritardo Adesso ci siamo sistemati e ricominceremo con i video, ma ora cominciamo con la ricetta Mi hanno regalato una bella zucca molto fragrante e croccante, freschissima E ho pensato di preparare la mia famosa vellutata E di darvi la ricetta in modo che possiate realizzarla anche voi a casa Semplicemente partite tagliando a pezzi, pulendo ovviamente molto bene la zucca e tagliandola a pezzettini molto piccoli Non vi preoccupate se non siete precisi perché poi andremo a fare un passaggio particolare che sarà frullarla E quindi non è necessario che siano perfetti Togliete quindi la buccia dalla zucca Ripulite bene il bordo centrale dalle impurità e dai semi E cominciate a tagliare appunto la zucca a pezzettini Ho velocizzato un po' il nostro taglio perché effettivamente la zucca è molto croccante e molto esistente Quindi ci vuole un po' di tempo per tagliarla Però una volta realizzato questi dadini andremo a preparare la nostra vellutata Ecco che velocissima e perfetta come un vero chef Non è vera la velocità Preparo benissimo questi preziosissimi e precisissimi quadratini di zucca Una volta che avremo realizzato tutti i quadratini, terremo la zucca da parte E prenderemo un pezzettino di pancetta Io ho usato una pancetta tesa affumicata E la taglieremo a pezzettini Anche in questo caso faremo dei pezzettini molto piccolini Perché sempre dovrà essere poi dritata e frullata Una volta che avremo tagliato tutti i pezzettini di pancetta Sarà la volta della nostra cipolla Io ho usato in questo caso una mezza cipolla bianca Però potete usare tranquillamente anche uno scalogno o una cipolla rossa di tropea La tagliamo anche questa a pezzettini molto piccoli La tritiamo Come vedete possiamo fare dei tagli alla cipolla E poi incominciare ad affittare In questo caso troveremo già la cipolla abbastanza tritata Andremo poi a concludere questa lavorazione con il coltello Per cercare di tritarla finemente Dopo aver tritato la cipolla Passeremo a sminuzzare dei piccoli peperoncini Io ho usato quelli secchi Ma voi potete usare sia quelli già tritati Che quelli freschi In una padella antiaderente ho versato dell'olio L'ho fatto scaldare leggermente E ho inserito sia la pancetta che la cipolla che il peperoncino Mi raccomando non mantenete il fuoco troppo forte Perché la cipolla e la pancetta dovranno semplicemente appassire Non dovranno essere bruciate Quindi mantenete il fuoco dolce e giate di tanto in tanto Fino a che non saranno leggermente appassite Lasciamo quindi adesso appassire ben bene Quando saranno appassite potremo aggiungere la nostra zucca Diamo una bella mescolata E lasciamo cuocere a fuoco lento per 5-10 minuti Fino a che la zucca non si sarà insaporita e comunque un po' appassita A questo punto potremo aggiungere circa mezzo bicchiere di vino Io ho usato un semplicissimo tavernello Comunque più buono usate il vino Più saporita sarà la zucca Lasciamo quindi evaporare il vino E aggiungiamo un del tazzone di brodo Mescoliamo e lasciamo insaporire per qualche minuto A questo punto possiamo aggiungere un paio di cucchiai Io in questo caso ne ho aggiunti 3 Ho aggiunto 3 cucchiai di pastata di pomodoro Potete usare anche il concentrato O i pezzettoni come più preferite Io mi trovo comoda con la passata Perché mi serve giusto per dare un pochino di colore alla zucca Mescoliamo bene anche dopo aver messo il nostro sugo E lasciamo cuocere a fiamma bassa Fino a che tutta l'acqua non sarà assorbita E la zucca non sarà cotta Una volta raggiunti questi risultati Quindi l'acqua sarà asciutta E la zucca appunto sarà cotta Possiamo passare al prossimo passaggio Come vedete Toccando la zucca con il cucchiaio Si dispa facilmente Quindi vuol dire che è cotta Dobbiamo adesso semplicemente passare alla centrifuga Quindi andremo a passare la nostra salsa Trasferiamo quindi la nostra zucca In un contenitore alto Perché dovremo passarlo con un frullatore ad immersione Faremo quest'operazione quando la salsa è ancora calda E quindi deve essere mi raccomando Un contenitore adatto a contenere degli alimenti caldi Una volta che avremo passato nel boccale Tutta la nostra salsa Useremo il mini peamer Potete usare qualsiasi tipo di frullatore In quel caso considerate l'uso che bisogna farne Quindi se si può o meno usare Quando il prodotto è caldo Altrimenti dovrete far raffreddare la vostra salsa In questo caso possiamo agire invece Direttamente con la salsa calda Perché abbiamo a disposizione Un frullatore tipo mini peamer ad immersione Frulleremo il nostro composto Fino ad ottenere una bella salsa densa Ma senza grumi La potremo poi rimettere nella pentola Dove abbiamo cucinato la nostra salsa E come vedete È veramente cremosa Come se fosse una salsa fatta con del pomodoro Vi faccio vedere proprio la consistenza Che deve assumere la nostra salsa Come vedete È bella, cremosa E senza grumi È proprio come se fosse un bel sugo vellutato A questo punto non ci resta che magari Scaldare della pasta E poi dopo averla scolata Metterla ad insaporire con il nostro sugo Io di solito faccio così Lascio la pasta un po' indietro di cottura Quindi fino a che non è proprio cotta La lascio veramente molto al dente In modo da continuare la cottura Direttamente nel nostro sugo In modo che la pasta prenda quel bel colorito E quel bel sapore di zucca Molto intenso Quindi la lasciamo insaporire per qualche minuto E il nostro piatto è pronto Delizioso Veramente squisito Vi faccio vedere ancora una volta la consistenza Come vedete Sembra un normale sugo del pomodoro Ma in realtà È la nostra vellutata di zucca Potete usarla sulla pasta O magari su una tartina O quant'altro Come vedete L'aspetto è veramente invitante È assolutamente delizioso Sembra proprio del sugo normale di pomodoro Quindi magari potrà essere facilmente Mangiato dai nostri bambini Spero che questa ricetta vi sia piaciuta Vi auguro un buon appetito E ci vediamo alla prossima videoricetta Ciao ciao